Una bella partita però la vediamo un po' arrabbiata. Secondo me con una prestazione del genere, facendo dei gol di bella fattura e soprattutto lottando contro una casertana Maidoma e soprattutto forte, ti aspetti che almeno sul 3-1 e sul 4-2 la squadra stia in partita con la testa, che abbia concentrazione. Sono dei cali di tensione che a me ovviamente non piacciono, perché dopo va a dilapidare tutto il lavoro che fanno questi ragazzi, che è meraviglioso e quindi dobbiamo ancora lavorare, non c'è niente di meglio che vincere una partita e mettere a posto delle cose. Però al di là dei cali di tensione, questa è la terza vittoria consecutiva, è arrivata al termine di una bella partita, di una prestazione che potremmo dire forse tra le migliori di questo campionato della sua squadra. Ecco, c'è da essere soddisfatti? Proprio per niente, perché abbiamo trovato una casertana in palla, una squadra fortissima, prova ne sia anche delle continuità dei risultati che ha avuto. Noi abbiamo giocato, secondo me, una grandissima fase di possesso e di indice di pericolosità, perché oggi abbiamo avuto molte occasioni da rete e anche di lapidate con delle ripartenze, secondo me, giocate con l'ultimo passaggio affrettato. La squadra sta migliorando, è una squadra che ha dei ragazzi veramente in gamba, molto bravi, molto tenaci. Questa vittoria è un'altra vittoria che noi dedichiamo a Luca, che ci guarda da fuori, non ce lo dimentichiamo mai. A caldo magari una volta uno si ricorda, invece noi abbiamo la possibilità di regalare a lui qualche soddisfazione in più rispetto alla sua difficoltà fisica. Mister, è stata un po' la vittoria della grande qualità di questa squadra e di un giocatore che in questa categoria non c'è niente che è Mungo? Se tutti rispettano lo spartito, i giocatori di qualità aumentano vertiginosamente le loro performance. Mungo ve l'ho sempre detto che per me è il calcio, è un giocatore irrinunciabile quando sta bene e quando sta bene questo tipo di trans agonistica. Io credo che ha fatto un gol veramente nella storia, voi qualche giocatore, qualche attaccante forte l'avete visto, qualche gol importante altrettanto, ma questo è un giocatore di un funambolo che ha delle qualità che solo lui non sa quanto siano grandi. Mister, questa terza vittoria consecutiva? Ma proprio per niente, dobbiamo aggiustare, in questo momento dobbiamo aggiustare e basta. I potenziali sono importanti, il potenziale c'è, però per questo motivo non possiamo buttare per terra il secchio del latte dopo averlo morto. Vincere anche soffrendo, anche se mercoledì avete sofferto per merito degli avversari e oggi per demerito del Teramo. No, mi dai la possibilità di dire una cosa diciamo in generale. La squadra ha fatto una grande partita oggi contro un avversario forte, perché oggi la cosa peggiore era quella di sottovalutare... Invece l'ha provato ottimo, siamo sempre stati in doppio vantaggio, 2-0, 3-1 e 4-2. Queste sbavature però non ci devono essere se vogliamo essere una squadra vincente, che non vuol dire di vincere, ma vuol dire avere una mentalità competitiva. Tornerà a casa con un sorriso finalmente? Non vedo i figli da due mesi, mia moglie da un po' meno, non vedo l'ora di abbracciarli. Grazie. Buon viaggio, Ministro.